finalmente ragazzi eccomi qua sono deciso a ripartire un po perché ve l'avevo promesso e un po perché non è che siamo entrate riserva siamo proprio agli sgoccioli e quindi bisognava necessariamente parlare di questo liquido sapete che mi piace il lavoro che fa azad adoro le sue scelte il suo modo di concepire determinati liquidi e uno degli aromi concentrati che mi aveva colpito di più in assoluto in questo anno sicuramente era il persian apricot questi tabacchi persiani dal bicocca che devo dire mi avevano stupito liquido clamoroso buonissimo strabilanciato né dolce né secco il solito equilibrio perfetto del nostro alchimista quindi poi quest'estate è uscita questa limited edition io già ne ho fatte fuori un paio di bocce devo dire è un liquido che va alla grandissima questa limited appunto arricchita da una nota di limone qui ragazzi sinceramente avevo storto un po la bocca nel senso che mettere il limone in un tabacco purché aromatico perché comunque parliamo sempre di tabacchi molto aromatici mi aveva fatto starci la bocca nonostante io riponga un'estrema fiducia nel lavoro del di azad e del suo team quindi ovviamente non potevo esimermi dal prenderlo e da provarlo sapete che nei tabacchi la prova olfattiva lascia veramente il tempo che trova qui si sente sicuramente essendo un aromatico quindi si sente qualcosina di più però si percepisce questa albicocca e questo sottofondo agrumato che giallo olfatto risulta interessante ora esce in questa versione limited ancora si trova ragazzi se ne avete l'occasione vi è piaciuto il persian apricot prendetelo qui però a differenza della classica versione in aroma del persian abbiamo la versione ultra concentrata i 20 ml di aroma in pg dovete aggiungere poi fate voi le proporzioni se lo volete con o meno nicotina e ragazzi che vedevo di strepitoso sarà strepitoso sicuramente anche l'atomizzatore sul quale lo sto provando vi ho promesso una recezione e vi garantisco questa volta che ne parlerò perché probabilmente è uno degli atomizzatori che mi ha colpito di più in assoluto però ce lo andiamo a provare veramente ragazzi aver introdotto il limone è stato qualcosa di brillante di lungimirante nel senso che l'apricot lo adoro ce ne avrò 120 ml fatti probabilmente mi piace da morire questo risulta diverso nel senso che a base parliamo sempre di quel tiro lì di quel genere lì dove c'è questa albicocca che io trovo un puntino meno dolce rispetto alla versione classica l'altro comunque non è che era stradolce però questo lo trovo leggermente meno dolce probabilmente questa minor dolcezza potrebbe essere data anche dalla quella leggera punta di acidità del limone che rende questo liquido stra interessante e soprattutto stra all day perché l'acidità sapete anche nella ristorazione si utilizza l'acidità che venga data da un agrume o da una bollicina ad un determinato vino per ripulire il palato e se lo rende sempre recettivo e secondo me vale la stessa regola in questo liquido perché c'è questa puntina acidula del limone si sente l'aroma è probabilmente l'aroma a quel profumo di scorzetta di limone dove però non è soltanto aromatico ma lascia quella puntina di acidulo che secondo me rende sempre il palato ultra recettivo quindi poi c'è questa albicocca che non è dolcissima però confronto al limone sicuramente è più morbida è più amabile e quindi avvolge il palato ripulito da questa punta di limone in sottofondo ci sono i tabacchi questi tabacchi che non sono affumicati però hanno questo sentore di legnoso veramente interessante buonissimo ragazzi se l'avete provato scrivetemi nei commenti poi vabbè qui l'atomizzatore si presta a diverse prove perché abbassando la campana ma poi ne parleremo emergono leggermente di più le note tostate del tabacco queste note leggermente legnose però dell'atomizzatore poi ne parliamo comunque ragazzi questo dove lo mettete lo mettete resta un liquido clamoroso come sempre ragazzi c'è poco da fare azzat non ne sbaglia una spero che il video vi piaccia spero siate contenti intanto stava per finire la carica della batteria e spero siate contenti del mio ritorno ci vediamo presto e un abbraccione grande a tutti